Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti nel canale e benvenuti in un nuovissimo video come vi avevo promesso oggi video outfit allora vi mostro alcuni vestiti e come indossarli in occasione delle feste lo so che quest'anno è un anno un po' particolare ma chi se ne frega, cioè nel senso se abbiamo voglia di vestirci bene io ve lo dico sempre, possiamo farlo anche in casa se io dovessi fare il Natale in casa, se dovesse succedere mi vestirò comunque e me ne frego capodanno sicuramente lo farò in casa perché comunque c'è il coprifuoco quindi non si può uscire e quindi non importa io a capodanno mi vestirò comunque e me ne frego è un modo così anche per sentirlo un po' di più per sentire anche le festività un po' di più anche se siamo in casa a parte questa lunghissima premessa iscrivetevi al canale mi raccomando e attivate sempre la campanella per non perdere i prossimi video detto questo ho cercato di mantenere pochi accessori non ho insomma poche cose ma gestite bene come sempre per mostrarvi che non serve avere 8 miliardi di scarpe non serve avere 8 miliardi di borse cioè se abbiamo una cosa bella fatta bene e sul classico che può star bene un po' con tutto va bene quindi niente non mi dilungo troppo vi mando un abbraccio grandissimo e vi auguro un buon sabato ciao ah e lasciate un like mi raccomando se il video vi piace ciao 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 ciao